L'Apostolo Paolo sostiene molto chiaramente che le promesse fatte ad Abramo furono compiute in Cristo, Galati 3 verso 16 dice, ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice e alle discendenze come se si trattasse di molte ma come di una sola e alla tua discendenza cioè Cristo. Paolo spiega cosa intende. Le promesse date ad Abramo erano promesse evangeliche del Nuovo Testamento. Esse furono date prima di Mosè e furono adempiute in Cristo. Gesù è il vero figlio di Abramo. Lui è la discendenza promessa ad Abramo. Il fine della legge data a Mosè era di insegnare all'Israele nazionale e a noi la grandezza del nostro peccato e della nostra miseria, Galati 3 verso 22. La legge amministrata attraverso Mosè non modificò fondamentalmente la promessa evangelica fatta ad Abramo. Capitolo 3 versi da 17 a 20. Il nuovo patto non è altro che l'adempimento e il rinnovo del patto abramico e il patto abramico non era altro che l'adempimento e il rinnovo del patto di grazia fatto con Adamo dopo la caduta.